Claudio Ottoni sembrava un leone senza gabbia, si aggirava in tribuna poiché è squalificato. Come ha vissuto questa gara? Malissimo, malissimo purtroppo perché abbiamo fatto bene la prima mezz'ora, buone azioni, qualche occasione. Poi c'è stato il rigore che mi hanno detto che sia l'attaccante si era portato avanti la palla col braccio e poi si era buttato. Comunque ci sta la respinta corta di Gargallo. Poi passato in svantaggio abbiamo rischiato di compromettere tutto perché il secondo tempo dovevamo stare tranquilli, cercare di portare il più lungo possibile la partita, tenerla viva, non subire il secondo gol. Nei primi dieci minuti abbiamo rischiato di prendere due o tre gol in maniera clamorosa per voglia di rifarsi subito. Invece abbiamo rischiato, abbiamo preso il secondo gol giustamente e poi c'è stata voglia di monta, il risultato di Bozzano che è cambiato e a quel punto è stato tutto più facile per noi. Si ha quasi l'impressione che nessuno volesse l'Alghero nei play? Questo non lo so, di sicuro per certi atteggiamenti non è che sia una squadra simpatica a molti, forse neanche a loro stessi. Perciò alla fine chi sta a minire l'avvento raccoglie tempeste. Ottoni, mai stato così sorridente quest'anno? No, io sono sempre sorridente, sono contentissimo di quello che hanno fatto. I ragazzi, un anno strepitoso, meraviglioso, risultati più che meritati, anzi purtroppo l'ultimo mese ci ha penalizzati oltre misura di quello che si era fatto di buono. Per fortuna alla fine abbiamo raggiunto e acciuffato per i capelli questi benedetti playoff che è un risultato incredibile. La squadra è ripescata due settimane all'inizio del campionato, tanti giovani all'inizio, squadra inesperta però che è maturata subito. Perciò non posso fare altri complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto quest'anno. Mi auguro adesso di andare il più lontano possibile. Io l'ho detto, oggi era la partita, una partita che può cambiare anche la carriera di alcuni giocatori perché se dovesse andare bene i playoff si aprirebbero nuovi orizzonti per qualcuno di loro. Lei alla vigilia diceva mi auguro di ritrovare il Legnano e così è stato. Nel senso che l'unica squadra ci ha battuto tutte e due le volte, sappiamo che ci ha battuto il ritorno, non vogliamo sicuramente fare una lotta, una battaglia, vogliamo vincere sul campo come abbiamo fatto tante altre volte. E quindi un'annata da incorniciare anche se forse alla vigilia lei temeva ricordando quanto accaduto l'anno scorso. No, all'inizio no, all'inizio l'obiettivo primario era la salvezza, l'abbiamo raggiunta a dieci giorni alla fine, meritatamente, perché abbiamo fatto un giro di ritorno strepitoso, 33 punti credo. E niente, non temevo niente, sono contento di quello che abbiamo fatto, penso che tutti quanti se all'inizio dell'anno avessero detto guardate che andate nei playoff, vedete voi siete matti. In questi giorni la squadra avrà l'opportunità di ricompattarsi, di superare quei malanni fisici, di ritrovare anche i giocatori assenti? Non lo so, qualcuno credo che non potrà essere recuperato, però abbiamo visto che quando è stato chiamato qualcuno è stato risposto bene, è quello che volevo perché hanno capito come va interpretato il calcio, come lo interpreto io, come intendo io, quando uno che entra dalla panchina deve essere disponibile, mettersi a disposizione della squadra, non deve strafare, deve fare quello che sa fare e basta. Quando un giocatore fa quello che sa fare è più che sufficiente.